Musica Sa necessità di deligare sempre del prusso carcere, debato e carrosa sa comunidade, a fortiande su sentidu desecureza desorzitadinos che non un percorso che non ha patta a fondamento sa repressione, ma su reinserimento e s'integrazione. Custa sa punna desu profedidore presa amministrazione preintenziaria desasardigna Antonio Galatti in sinteri desu comità uo ordine e secureza pubblica organizzato questo manzano in sa prefettura dei Nugoro. Un addobbio pro formalizzare su contributo dei chimbantuno uominer desesercito provvizilare in su perimetro desu carcere Nugoresu, ma per i pro ufficializzare una maniera nuova di operare mandau adennante desu provvedidore promedio desa collaborazione intre governo, regione e istituzione territorialese. Su provvedidore Galatti, Adawa e Schire e Chi, in sa schida sin beniente, sanapiccare servizio in Sardegna, belle 30 chimbeso, preintendentes e 90 agentes penitenziarioso, che in sudeca è prochente in prur desu personale penitenziario usardo, in prur duos istitutos anacolari a dirigenza superiore. Su provvedimento, schisi deppene vie, scomente uno crudo riguardo da Roma, prosa scritticidad desu territorio usardo, e su uno pezzi su primo passo di uno percorso prusampru. Su prefetto dei Nugoro, Giancarlo Dionisi, adao e Schire, s'istituzione di una mesa permanente pro dare conto desas iniziative armandradas adennantisi pro accurziare de prur badu e carros a sa comunidade. Su un occhio del Polizia Economico-Vinanziaria desa guardia di Vinanzia del Castello, assinzala un'evasione d'imposta di una società del Castelldaia, che opera in suo settore medico e che va che parte di un gruppo di livello internazionale. Sa Vinanzia ha fatto una verifica fiscale programmata a un'azienda che in un volume di affare di più di 5 milioni e mezzo d'euro a Sannu, accattando una scantare fardina scontabile che ha una boccao a Pizzo, ires non pagata per un milione e se scenta a mezza euro. Suoi militari hanno fatto il rilievo e finito a sproso i prezzi applicati e risultati non conformi al suo principio di libera concorrenza e stabilità e allineare guida OXE. In prusa la società non ha pagato imposta suprasurredito pro patto a scento a mezza euro. Progetto per nuora presenta un'interrogazione al suo sindico di Nugoro Andrea Zordu in merito al suo affidamento e della gestione della doma imparata della Carrera Trieste in Nugoro a sa cooperativa insieme di Salerno. Sa società di campana ha vinto a gara che prevedì al suo criterio di sofferta plus profettosa economicamente e sa cooperativa Progetto Uomo di Nugoro finzasi a tappi su punteggio tecnico massimo, si legate in sanotta desacusizzera a bidoni, prosa calidade desu servizio e garantire risultata ultima che ha fatto un ribasso minimo. E tando a Pustri del Vintanno, sprogetto Uomo no hat a gestire plussi struttura. Progetto per nuora espressando i pistichinzu caso ribasso desu serv, virgola batto sprochento vato da esa cooperativa di Salerno di apodermuzzare esos costor de gestione e desu personale che in consicchenza esprosa calidade desu servizio presenta s'interrogazione pro comprendes comente mai sa amministrazione a tisse però di attribuire uno punteggio complessivo che premia a sofferta economicamente plus profettosa e non sa calidade desu servizio e i tecchere fa che su comune pro garantire a so sospite sa calidade e a su personale sor dirittoso. Sado a modo di riposo divina provvidenza, chiuso tribunale dettato e adecrarò valia a tatancare tra una chida. Sono vinti so straballadores e sa straballadoras chiana barrare disoccupaoso. Custo manzano, sordipendente desi struttura che in sosparente desi ospite sa navatto un'altra manifestazione pro pedire da mantenne sosposto or letto occupaoso. A posti sa nadobiaso sindico in palato ducale, sindico che ha sottolineato che su comune non ha titolo per intervenire in una questione che pertocca a tono provvedimento desu tribunale valimentare dettata di essa regione. Su sindico però ha tassicurato che su servizio sociale desu comune ha una garantire sa assistenza ad esos ospites e si spera a detto tuseschi incustardies a ribene no barbonasa. Turismo, culturale, intrepresente e benidore. Danava veddavo in su convegno, mare, musei e cultura organizzavo da esassessoravo a sa cultura desu comune de Castello. Esti stata asoccasione per una scanta realtà del museale esitaliana esprusa notu des cittades costierasa desi confrontare pro comente valorizzare esofferta turistica, artistica, moderna e contemporanea in su contestu desu turismo culturale. Ed è cales i strategiasi impreare pro affrontare esordis affioso esandamento prosuvenidore. Cultura e turismo li causa appare che hanno chinanno su un sempre spruz profettoso e che oramai è un fenomeno propacoso esco là un fenomeno de massa che però deve fare questo sconto in su strasporto, aereo e marittimo ma finza sin ser cittadese. Sa valorizzazione del suo patrimonio artistico usardo e nazionale ha bisogno vincere dei sor disaffios che garantini sa tecnologia a novas e so social che propone metodosi innovativoso pro contare esar cittadese e sar belleza di soro a curziande sosturistas a sa cultura.